Siamo a H-Show 2020 nello stand della Paganini. Questo è il Grand Power Stribog SP9, la nuova versione, ultra compatto, con canna da 4 pollici, camerato in 9 mm. L'arma è con calcio pieghevole, con il calcio esteso è come se fosse una carabina, ma è catalogato pistola, quindi arma comune. L'arma ha tutti i comandi ambidestri, che è una novità per quanto riguarda questo prodotto, il caricatore contiene 20 colpi e è dotata di una slitta Picatinny con mire metalliche abbattibili e il prezzo si aggira intorno ai 1800 euro.